Ciao a tutte e bentornate sul nostro canale. Io sono Annalisa ed oggi il progetto creativo ci vedrà coinvolti nel realizzare questa simpatica canotta top down, quindi partiremo dalla parte superiore per poi finire con la parte inferiore del nostro progetto, molto semplice, facile e adatta a chiunque, adatta anche a chi ha un seno magari un po' più prosperoso rispetto al mio. Perché vi dico questo? È una canotta estremamente semplice, realizzata in due step, che poi vedrete nel video, e che non vi darà il fastidio di nascondere l'attaccatura che vedete normalmente qui, che se non si chiude bene perfettamente vi dà quell'inestetismo del progetto che man mano vi viene in avanti in diagonale. Come io lo andrò a chiudere invece vi permetterà di lavorarle quasi come se fosse a spirale e quindi vi viene un progetto lineare perfetto senza dover nascondere nessun difetto, diciamo, né nella parte anteriore né nella parte posteriore. Quindi ora preparate gli occorrenti, il filato che vedete che io indosso è uno dei nostri, che troverete sul sito nostro www.endendmade.it e iniziamo insieme questo nuovo progetto creativo. Allora, prima di iniziare con la spiegazione di questo progetto, volevo farvi capire alcuni piccoli passaggi. In pratica noi andremo a lavorare come abbiamo detto top down, quindi dall'alto verso il basso, fino ad un certo punto il lavoro sarà diviso in due pannelli, quindi come potete vedere dallo scollo fino a questo punto sono divisi in due pannelli. Nel mio caso i due pannelli sono perfettamente uguali perché io ho una circonferenza seno di circa 80 cm, quindi poca roba, ma chi è un po' più prosperosa rispetto a me potrà realizzare lo stesso tipo di progetto senza che la maglia dietro poi risulterebbe troppo ampia, perché nel mio caso saranno due pannelli perfettamente uguali, di 42 cm davanti e 42 di dietro perché mi piaceva che scendesse morbida. Nel caso in cui facciamo finta io ho un giro seno di 100 cm e la maggioranza è 60 cm solo davanti, io la parte anteriore la andrò a lavorare di 60 cm, mentre quella di dietro 40 cm, così quando andrò a indossare la maglia, la maglia cadrà bene sia davanti che indietro. Altra piccola precisazione che vi voglio fare, come vi dicevo prima, nell'anteprima, è la parte di giunzione. Sapete bene che quando chiudiamo un progetto da un punto all'altro, poi abbiamo le cosiddette catenelle di inizio lavorazione, se questo tipo di passaggio non lo facciamo correttamente e soprattutto per chi è principiante ma anche per me che sono esperta, voglio dire, beh mi definisco esperta diciamo così, che ho già lavorato altri lavori, può capitare che uno si sbaglia e questa catenella vi viene un po' davanti così, man mano che è andata avanti con la lavorazione ed è brutto a vedersi, quindi che facciamo poi in quel caso? La facciamo partire con la parte di dietro, quindi la spostiamo sulla parte di dietro. Ovviamo oggi con questo progetto a questo tipo di problema, in pratica quando io andrò ad attaccare le due estremità, lavorerò sempre il punto alto come se fosse una lavorazione a spirale, sempre in tondo, così da non creare quell'inestetismo, diciamo così, o per chi non è esperto, non è detto che chi riesce tranquillamente poi gli viene dritta la catenella. Quindi in questo caso qui vi consiglio poi di inserire un marca punto qui che ve lo porterete fino alla fine, così sapete dove inizia e finisce la vostra lavorazione. Ora, ho già parlato troppo, iniziamo insieme questo bellissimo progetto. Allora, come vi dicevo, questo è un progetto molto semplice e facile da realizzare. Io sono partita dalla parte superiore, quindi un top down, molto ma molto semplice. Vedete, ho realizzato i punti traforati partendo dall'inizio. Ora vi faccio vedere come iniziare questo tipo di lavorazione e poi come proseguire con la parte sottostante della nostra maglia. Ok? Allora, il filato che io utilizzerò per questo tipo di lavorazione è uno sfumato, è un cotone molto bello da lavorare, avete visto è particolare nei suoi colori, è un 50 grammi ed è un 133 metri di lunghezza. La casa consiglia un uncinetto da 3, 3,5 o anche 4, io lavorerò con un 3,5. Vi faccio vedere. Allora, andiamo ad avviare, per quanto riguarda la mia taglia che è una S, 120 punti. Consiglio per ogni taglia più o meno 20 punti in più, così è una maglia comoda, quindi non deve andare troppo stretta e vi aiuterà a crescere man mano in base alla vostra misura. Quindi più o meno 20 punti in più per ogni taglia. Quindi ora vi farò vedere il campioncino, avviamo i nostri punti con il cappietto. Allora, in questo momento io non lavorate 30, ma sono simboliche per me, perché come abbiamo detto, sono 120 punti per la mia taglia, che è una S. Vedete, allineo la lavorazione, punto l'uncinetto qui e tiro il filino. Per chi, diciamo, non si sente sicuro nel lavorare la catenella in tondo, magari il primo giro lo può fare anche aperto e poi lo chiude dopo. Ora da qui io lavoro le mie tre maglie, che rappresentano già il mio primo punto d'inizio e ora per ogni catenella sottostante io andrò a lavorare una maglia alta. Ancora, vedete, questa è la maglia, ancora, vedete, e ora farò così per tutto il giro. Quindi il primo giro sarà tutto lavorato a maglia alta, come potete vedere qui. Vedete, il primo giro è tutto maglia alta. Quindi ora continuate così e ci vediamo al termine. Allora, vedete, sono alla fine dove ho le tre catenelle iniziali e ora chiudo nella terza catenella con un punto bassissimo. e ora andremo a lavorare il punto traforato. Partiremo quindi con il punto fantasia, che sono in realtà degli archetti composti da 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Salterò semplicemente 1, 2, nella terza maglia, punto l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. Vedete? Ve lo faccio rivedere. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Salto 1, salto 2, nel terzo maglia bassissima. Ancora 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, salto 2, nel terzo. Vedete? E ora completo così tutto il giro. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3. Ok? Quindi ora completate tutto il giro e ci vediamo non appena arriviamo al punto di inizio. Eccomi qua, vedete? Sono all'ultimo punto, quindi 1, 2, vado qua e chiudo. Allora a questo punto io vi consiglio di inserire un marca punto così vi ricordate dove è l'inizio della vostra lavorazione. Ok? Perché poi con il punto archetto si confonde. Quindi ora ripeto 1, 2, 3, 4, 5. Vedete? Punto nella terza catenella del gruppetto. Qui, hopla. Scusate, ma con la telecamera non vedo bene. Qui e tiro. Ancora 1, 2, 3, 4 e 5. Punto nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Vedete? E ora sarà così per tutta l'altezza della maglia che voi dovrete realizzare. Per quanto riguarda me, io già l'ho preparata e vi faccio vedere che ho lavorato 10 giri. Per me sono sufficienti i 10 giri perché questo è il collo, la parte superiore della nostra maglia. Quindi volevo questo traforato leggero per un tot di altezza. Ok? Quindi ora continuate in quel modo e ci vediamo quando la vostra altezza sarà raggiunta per poter poi realizzare la maglia sottostante. Allora, primo step da fare. Io ho diviso la lavorazione e l'ho divisa nel seguente modo. Ho preso 12 archetti, vedete, sulla parte superiore e sulla parte inferiore e ho inserito dei marca punto. In questo caso ho inserito un filo di colore diverso per aiutarmi a capire come dividere bene la lavorazione. Cosa andremo a fare ora? Andremo a lavorare per una parte a pannello, quindi solo davanti, questi punti qui. Quindi significa che inizieremo a scendere un po' come se fosse una lettera A, di così, perché andremo a lavorare la parte che poi scende sul seno. Ok? Quindi dovrà essere un po' più ampia. Per quanto riguarda me, che sono una taglia S, questi 12 punti, ora vi dico quanto misurano. Misurano circa 25 cm. È ovvio che chi ha una taglia un po' più grande e ha iniziato già con delle catenelle un po' di più, avrà sicuramente un 4-5 cm in più rispetto a me, a seconda della taglia che avrà applicato. Perché vi ho detto prima, tenete presente che sono circa 20 punti in più per ogni taglia. Quindi ora io sono qui, vedete, dovrei continuare a lavorare in questo senso, ma invece io continuerò a lavorare ora a pannello, quindi torna indietro e vi faccio vedere come. Allora io sono qua, vedete, ho lavorato 3 catenelle, 4 e 5, perché le prime 3 rappresenteranno la mia maglia di inizio lavorazione. E poiché io sono su questa fase di bordo, non voglio che tiri troppo, quindi perciò ne do 5. Ora nell'archetto, vi ricordate, noi lavoravamo 5 catenelle. In questo caso andiamo semplicemente a chiudere qui, tirando con un punto basso, ancora 1, 2, 3 catenelle e chiudo qui. È come se stessimo ricreando la parte dritta, vedete, della lavorazione che era di sopra. Ricordatevi quindi, quando inserirete i multipli, di mantenere più o meno la moltiplicazione del 3. Per me 120 era già la moltiplicazione del numero 3, i 120 punti famosi iniziali. Così vi troverete bene nel momento in cui andate a lavorare. Ok, quindi abbiamo detto 3, vedete, punto nella quinta catenella e chiudo, vedete, così facendo si chiude l'archetto. 1, 2 e 3. Ora continuate fino a quando arrivate al marca punto finale. 3, vedete, ci vediamo tra poco. Allora, vedete, sono arrivata qui dove ho il mio marca punto e ora lavoro 1, 2, 3 maglie di inizio lavorazione e ora per ogni punto sottostante andrò a lavorare una maglia alta. Ok, quindi già qui andrò a lavorare una maglia alta dove ho le due catenelle maglia alta e maglia alta. Così riprepariamo la linea dritta della nostra lavorazione. Quindi ora continuate a lavorare per ogni punto sottostante, vedete, una maglia alta. Ok, 1 e 2, 1 e 2. vedete? Oh, qui ho saltato il punto, dopo lo riprendo. Quindi per ogni catenella sottostante, anzi lo riprendo ora perché non mi piace come ho fatto, per ogni catenella sottostante vi ricordo di lavorare una maglia alta. Contatevi quanti punti sono così da non sbagliare perché poi vi ricordate che dovete lavorare anche dall'altro lato gli stessi punti. Quindi continuate così e ci vediamo dopo. Allora, ho completato. Io in questo momento ho 36 punti. Se vi ricordate bene erano 12 gli archetti di prima, quindi 12 per 3 ho i famosi 36 punti. Ora 3 catenelle di nuovo per girare la lavorazione e rifaccio semplicemente un giro di maglia alta. Allora, ecco qua, sono al secondo giro, vedete? 1, 2 e 3. Giro la lavorazione e vado a lavorare già nel punto sottostante perché così facendo ho iniziato il mio aumento. Come dicevamo prima, la lavorazione scenderà poi come se fosse una lettera A, va ad aprirsi man mano. Poi stessa cosa la farò alla fine. vedete? Quindi continuate così e ci vediamo non appena sono giunta all'altro lato. Allora, ho lavorato, vedete, sull'ultimo punto, ora vado qua dove ho le 3 catenelle e lavoro direttamente sul punto, ok? Giro di nuovo 1, 2 e 3. Ah, perdonatemi, dobbiamo fare l'aumento anche qui, ne ero dimenticata. Quindi nella stessa catenella vado a lavorare una maglia alta. Vedete come abbiamo fatto all'inizio, ok? Ora 3 catenelle, giro la lavorazione, lavoro subito qui nel punto sottostante e ora continuo così ad effettuare gli aumenti sia a destra che a sinistra fino al raggiungimento, insomma, della larghezza desiderata. Quindi io andrò avanti, ci vediamo tra poco. Allora, io ho appena finito di lavorare, come potete vedere, 12 giri e in questo momento io qui ho una larghezza, vi dico subito, di 40 centimetri, ok? Che corrisponde al mio giro torace è diviso 2. Quindi questo l'abbiamo già concluso. Ora cosa andremo a fare? Andremo a tagliare questa lavorazione, andremo a tagliare quindi questo lato della lavorazione e ora cosa andremo a fare? Vi ricordate che abbiamo messo i separatori da questo lato e ora come vedete io ho appoggiato un po' più in avanti lo scollo e sempre con i 12 punti che noi abbiamo diviso prima i 12 archetti, qui andrò a ripetere lo stesso tipo di lavorazione, ok? Per tanti giri quanto mi serviranno per arrivare poi fino a questa parte qui. Ora vi faccio vedere come andremo a lavorare. In pratica mi sposto un attimo in marca punto più in qua e come abbiamo fatto prima, vi ricordate abbiamo lavorato prima i 3 archetti, anche ora andremo a fare questo tipo di lavoro. Quindi nella terza catenella inserisco 1, 2, 3. Vado di qua, salto e lavoro i 3. chiudo, 1, 2 e 3. Ora continuo così fino ad arrivare all'altro marca punto come abbiamo fatto prima. Stiamo ricreando la base in pratica, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Vedete? Come abbiamo fatto prima, stiamo di nuovo ricreando l'allineamento del nostro lavoro, quindi ci vediamo quando siamo all'altro lato. Allora, vedete ho lavorato dove ho l'altro marca punto e ora di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, perché rappresentano la mia prima maglia di inizio lavoro, come abbiamo fatto per il lato opposto. Giro il lavoro e vado a lavorare per ogni punto sottostante una maglia alta, ok? un'altra catenella. E ora farò questo, come abbiamo lavorato per la parte davanti, lavoreremo anche per la parte di dietro. Quindi ora continuate così e ci vediamo al lavoro un po' più avanzato. Allora, ho lavorato anche per questa parte i miei 12 punti, ora vado ad unire in pratica le due estremità, quindi allineiamo il lavoro, vedete il lato di destra con il lato di sinistra e semplicemente punto l'uncinetto nella maglia di sinistra, tiro il filo e chiudo con un punto bassissimo. Così facendo ho unito la lavorazione. Ora continuo a lavorare come prima con una maglia alta per tutti i punti sottostanti e faccio questo per tutto il giro fino ad arrivare ovviamente all'altro lato che poi dovremo unire. Quindi ora continuate così e quando arriveremo al lato dove dobbiamo unire le due estremità lo faremo insieme. Quindi ci vediamo tra poco. Allora sono giunta, vedete, da quest'altro lato e come abbiamo fatto prima punto l'uncinetto nella maglia di sinistra, vedete, tiro il filo e chiudo. Qui vado a lavorare di nuovo una maglia alta e ora continuo così per tutto il giro. Quindi così facendo abbiamo unito le due estremità. Quindi a questo punto continuiamo a lavorare tutto il nostro giro così come si presenta, cioè con tutti i punti alti. Ci vediamo al lavoro un po' più avanzato. Vedete? quando arriveremo qui andremo poi a lavorare su questo punto qui, anche qui una maglia alta. Ok? Quindi ora continuate e ci vediamo dopo. Allora, io ho lavorato 36 giri calcolando dalla parte superiore fino alla parte inferiore e in questo momento vi dico che altezza ho così da regolarvi anche voi. Allora, sono 36 centimetri solo dalla parte, diciamo, dallo scollo fino alla parte inferiore, fino a qui in pratica io ho circa 36 centimetri. Ok? Non conto quindi la parte che riguarda il traforato iniziale. E vi faccio vedere così vi rimane. A questo punto cosa andremo a fare? Ora io andrò a ripetere il motivo ad archetto che abbiamo lavorato qui, lo andrò a ripetere sotto e lo faremo nel seguente modo. Allora, per chi non riesce a mantenere il punto, diciamo qui, poiché la lavorazione è in tondo, vi consiglio di inserire sempre un marca punto non appena inserite, iniziate la lavorazione da qua, così vi ritroverete qui con il marca punto inserito e non saprete dove iniziare in pratica. Ora io da qua, che è il mio punto di inizio, lavorerò le 5 famose catenelle come abbiamo fatto prima, 2, 3, 4 e 5, salto i 3 punti, vedete, qua e chiudo. Ancora 1, 2, 3, 4 e 5, poi salto 1, salto 2, vado nel terzo e chiudo con un punto bassissimo. Ancora 1, 2, 3, 4 e 5, salto 1, salto 2, vado nel terzo e chiudo con un punto bassissimo. Allora, questo punto ora, poiché è un punto decorativo, uno potete farlo se vi piace, insomma ripetere il decoro che avete fatto sulla parte superiore, altrimenti potete chiudere così come si presenta ora la lavorazione, cioè a dritto, tranquillamente con una maglia alta oppure con un punto gambero finale che vi fa un punto d'orlo. Questo poi aspetta a voi decidere. Io ora continuo così come ho fatto per la parte superiore e ci vediamo a lavoro un po' più avanzato con gli archetti. Allora, quando siete qui, vedete come prima, vedete qua abbiamo il primo gruppetto, lavoriamo di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5 e le chiuderemo nella terza catenella. Questo punto archetto, insomma, vi aiuterà anche nella parte che va sui fianchi del nostro lavoro, perché è molto più morbido e quindi scenderà in una maniera più comoda anche sulla parte inferiore della maglia. Quindi volendo potete fare anche tanti giri, quanti insomma lungo volete questo tipo di lavorazione. Quindi continuate ora così e ci vediamo al lavoro più avanzato, quando avremo completato più o meno una serie di archetti che ci possono dare una bordura un po' più definita. ok? Vedete sono sempre 5 e chiudo sempre nella terza catenella. Ancora 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo nella terza catenella. Quindi continuate così e ci vediamo dopo. Allora, io ho lavorato 6 giri di traforato, come potete vedere, sono al mio punto di partenza e ora chiudo così la mia lavorazione. Se non avete inseriti marca punti, in pratica, basta contare gli archetti, no? Io di qua ce ne ho 6, quando arriverò ai miei 6 giri di marca punto, chiuderò la... scusatemi di archetto, chiuderò la lavorazione. Quindi ora taglio il filo e poi possiamo nascondere le codine di inizio e fine lavorazione. Allora, il progetto è completato, come potete vedere, ora vi dico in totale quanto è lunga la maglia, così da potervi regolare, da bordo a bordo per me sono 42 cm, cioè da qui, dallo scollo a scendere. Non ho contato la parte del bordino superiore, che altrimenti saremo sui 50 cm. Allora, il bordino finale, anche se giri, vi dico quanto misurano, misurano circa 4 cm, così da potervi voi regolare. La larghezza della maglia è 42, vedete? 42 cm. Voi sapete che io ho un scollo a circa di un torace di circa di 80 cm, quindi questa scenderà molto comoda. La particolarità sta nel lavoro in cerchio che abbiamo fatto, che come potete vedere, non fa vedere quell'inestetismo a volte che non riusciamo a mantenere del lavoro in tondo, no? A volte quando non riusciamo a chiudere bene si vede poi la curva che va davanti così. Lavorando invece sempre a maglia alta, inserendo un marca punto, quindi così sapete sempre dove dovete chiudere, si lavora un po' come se fosse a spirale e quindi non avete quell'inestetismo del salto con le catenelle e della chiusura della maglia dopo. Quindi detto ciò, se vi va potete fare un giro di maglia bassa per lo scafalo del braccio, altrimenti lasciarlo così come si presenta. Per me va bene così e lascerò il tutto in questo modo. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi ricordo che i filati li trovate sul nostro sito www.handyandmade.it oppure potete contattarci al numero whatsapp 366 188 19 34 e come sempre grazie mille per l'attenzione, un pollicino su se vi è piaciuto il video e condividetelo che più siamo e meglio è. Grazie mille per l'attenzione, a presto!